Allora, siamo arrivati finalmente a Berlino. Allora, com'è stato il volo? Com'è stato? Io, vicino a due terroristi, sono riuscito ad arginare il pericolo. Senti, ma di la verità, è il momento che hanno aperto la cabina di pilotaggio? Sì, ho visto un sacco di puzzanti. Volevo spingere qualcosa, ma il mio istinto 3D mi ha detto di fermarmi. Andiamo a prendere il treno, che ci porterà a Berlino Centro. Allora, abbiamo appena posato i nostri bagagli in camera. Qui è l'hotel che si chiama il Moxi Hotel, che è un hotel che si trova leggermente fuori da Berlino, ma la cosa bella è che si trova davanti alla stazione. Ed è un hotel molto molto bello, perché è tutto quanto in stile metropolitano. Infatti, già come vedete dallo sfondo, c'è tutta quanta la piantina della metro di Berlino. Fa molto caldo, non ci aspettavamo sinceramente un clima così, perché venivamo da Roma che faceva freddino, però meglio così. Picture's of you, picture's of me, all upon your walls for the world to see. Picture's of you, picture's of me, remind us all of what we used to be. Picture's of you. Allora, quello che vedete dietro a me è l'Istai Gallery, che, come saprete, è una parte del muro di Berlino, perché nel 1989, quando ho deciso di abbattere il muro, l'idea originale era quella di abbattere completamente tutto quanto il muro e non lasciare più residui. Soltanto che poi, successivamente, si decise di lasciare qualche resto di muro in piedi e, data l'euforia del momento e la gioia della caduta di questo muro, moltissimi artisti di strada decisero di arrivare qua, nella capitale tedesca, e di abbellire le parti restanti del muro. E quello che ci rimane a noi, altro non è che una galleria a cielo aperto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, la prima tappa culinaria, dopo aver visto tutta l'Istai Gallery, è Burgermeister, che è questa hamburgueseria che si trova sotto il ponte, dove, a detta di tutti, si fanno dei panini che è qualcosa di spettacolare. Quindi proviamo per credere. Perché qua ci sono i melograni? Dobbiamo mettere la mano qui dentro e capire cosa c'è. Adesso siamo per entrare in una delle stanze più importanti del museo. Ciao Parlamento!